Nelle ultime settimane abbiamo imparato cosa effettivamente significa investire durante un conflitto come il conflitto in Ucraina. E dato che nessuno di noi ha la sfera di cristallo, tutti quanti bene o male ci siamo immaginati il come poter investire qualora ci sia un'espansione del conflitto. Cosa avrebbe senso fare? Ce lo saremmo sicuramente domandato. Qualora l'espansione della guerra diventasse più ampia, avrebbe senso continuare ad investire i nostri soldi oppure magari avrebbe più senso proteggerli liquidando magari le nostre posizioni e metterli all'interno del conto corrente. E quindi classico teniamoli al sicuro. Si tratta di un dubbio assolutamente legittimo al quale terrei a dare una risposta in questo video. Ma non voglio farlo da solo, voglio prendere in prestito le parole di un certo investitore molto famoso direi Warren Buffett che sicuramente tutti quanti voi conoscerete, il quale ci ha spiegato in un'intervista il suo punto di vista in merito a che cosa dover fare in delle situazioni del genere, in delle situazioni così critiche. Quindi mi raccomando rimanete fino alla fine del video, cominciamo subito ma prima sigla. Bentorni amici investitori e benvenuti a questo nuovo video, io sono Daniele, consulente finanziario e oggi parliamo assieme di che cosa ha senso fare nel caso di uno scenario di guerra più ampia. Prendiamo spunto dalle parole di Warren Buffett appunto che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di una figura che almeno nel mondo degli investimenti dire è affascinante a dire poco, è stato il creatore del classico value investor che tanto è famoso ad oggi. E lui ha espresso la sua opinione proprio su questa tematica in una vecchia intervista che siamo andati a ripescare, pensate un po' del 2014, quando lo scenario era ben diverso da quello attuale, ma si stava sviluppando la guerra, indovinate un po', in Crimea, quella sempre dalla Russia con l'Ucraina. L'intervistatrice chiese lui, qualora si fosse espanso ancora di più il conflitto, che cosa avrebbe avuto senso fare con i propri investimenti? Se avrebbe avuto senso investirli comunque oppure metterli al sicuro all'interno della banca? E queste sono state le sue parole. L'unica cosa di cui potrei essere abbastanza sicuro è che se entrassimo in una guerra molto grande, il valore del denaro diminuirebbe, è successo praticamente in ogni guerra di cui sono a conoscenza. L'unica cosa che vorrei fare è tenere il denaro durante una guerra, il che ha una logica estremamente chiara. Che cosa ci sta dicendo Buffett? Nelle eventualità in cui si dovesse verificare un disastro così apocalittico, come una guerra, magari una guerra mondiale, ha molto più senso avere i propri soldi e detenerli all'interno di azioni, di aziende, che producono beni, producono servizi e puntano alla crescita del valore, piuttosto che mantenerli liquidi all'interno del conto corrente. Ma per quale motivo questo? Per capirlo dobbiamo necessariamente andare a prendere i contesti passati, quello che è successo nel passato, nella storia. Prendiamo ad esempio il più grande conflitto che abbiamo mai visto, ovvero la seconda guerra mondiale. Ecco, il mercato americano ha continuato a crescere, l'economia ha continuato a crescere, con la dovuta volatilità, ovviamente. Viceversa, il dollaro è andato a valere sempre meno. E questa spiegazione basta giustificare tutto il discorso, le aziende sono produttive, quindi i capitali che si trovano all'interno delle azioni crescono sempre di più, mentre la moneta liquida ha sempre meno valore. E questo assunto ha ancora più valore oggi. Come sappiamo, perché ne abbiamo parlato tantissime volte, l'inflazione è un fenomeno che sta impattando e impatterà l'economia reale, sia nel presente che nel futuro, tanto nell'economia statunitense quanto nell'economia europea. Questa deriva da una reazione a quello che è stato il fenomeno della pandemia globale prima della guerra. Adesso aggiungiamo poi con la guerra l'aumento del costo delle materie prime e la situazione si fa tutt'altro che rosea. In definitiva, e ce ne siamo già accorti anche qui in Italia, ci siamo resi conto di come il denaro valga sempre meno, si possono acquistare sempre meno cose. Argomento tra parentesi che abbiamo analizzato bene all'interno del video di approfondimento sulla guerra in Ucraina e sulle varie circostanze di mercato. Ve lo lascio qui in alto, andategli a dare un'occhiata. E questa prospettiva di perdita del valore di acquisto del denaro sarà sempre più ampliata di sicuramente non andare contro la tendenza con un'espansione ancora maggiore della guerra. Secondariamente poi Buffett si è andato a soffermare sul quale potessero essere dei buoni investimenti da prendere in considerazione a seguito di questo tipo di scenario. Da buona tradizione, il miracolo di Omai ha parlato di prendere quelle aziende che hanno un forte vantaggio competitivo rispetto alle altre per un certo lasso di tempo e non potevamo aspettarci altro dal creatore del Value Investor. Questo però può essere un argomento di discussione che mi piacerebbe approfondire qui sotto nei commenti ma una cosa è certa, ha senso fare quello che dice Buffett a mio parere ha estremamente senso perché i dati ci dicono che è una cosa che abbia senso. Poi sul dove andare ad investire, come andare ad investire più volatilità, meno volatilità quello è tutto quanto un altro paio di maniche. Ragazzi io per adesso vi ringrazio per aver guardato questo video spero ovviamente che vi sia piaciuto lasciatemi un commento per sapere qui sotto che cosa ne pensate. Io come sempre vi ricordo che potete iscrivervi e attivare la campanella e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!